È un'attività che svolgo volentieri e sarà al servizio degli altri e dalla mia città. Da quanto tempo? Da poco, io mi sono inserito meno di un anno fa, se non sbaglio, ho fatto i corsi, tutte le procedure che ci sono da seguire, ho iniziato a svolgere le normali routine e poi le urgenze. Era come ti immaginavi? Dipende da... non è mai tutto uguale, non è mai... ogni urgenza è diversa e... più o meno era come mi immaginavo, comunque è un'esperienza molto bella.